Prima di iniziare a parlarvi di questa build vi do alcune informazioni velocissime. Sulla home del canale ho inserito una nuova playlist chiamata PC Build 2020. Qui troverete tutte le configurazioni che pubblicherò da qui alla fine dell'anno. Se invece volete una mano per la configurazione del vostro pc o volete chiedermi di configurarne uno basta andare nella sezione community del canale e scrivermi lì. Mi raccomando dovete fornirmi tre informazioni. La prima è il vostro budget complessivo per l'intera build. La seconda informazione è l'utilizzo principale che fareste del pc ad esempio gaming, editing, streaming eccetera. Ultima cosa se volete che nella configurazione ci siano componenti che vi piacciono come schede video, case, dissipatori eccetera scrivetelo così la inserirò nella build. Sulla home del canale trovate anche la playlist top 5 in cui seleziono migliori componenti hardware per pc, periferiche gaming e prodotti tech per fascia di prezzo. Viene aggiornata spesso e vi potrebbe essere utile. Passiamo ora alla build di oggi. È una configurazione da gaming che è stata richiesta da Leo il quale mi ha chiesto di inserire una cpu ryzen 5 3600x, una scheda video rogstrix a scelta tra una 2070 super ed una 5700 xt e ram da 3600 mhz. Il tutto con un budget complessivo di 1200 euro. Davvero una bella sfida se considerate che il costo totale della sola scheda video e del processore richiesto è di circa 750 euro. Ho fatto diverse prove riuscendo a stare dentro ai 1200 euro ma alla fine ho deciso di aggiungere al budget altri 50 euro per bilanciare al meglio la configurazione. Alla fine del video vi dirò comunque come modificare questa build per stare sotto ai 1200 euro. Per quanto riguarda le prestazioni sono davvero elevate alla risoluzione di 1080p e 1440p. Facendo qualche rinuncia nel setting grafico riusciremo anche a giocare benino alla risoluzione di 4k con la maggior parte dei titoli in commercio. Con l'editing e con tutti i programmi di produttività avremo prestazioni molto elevate. Vi presento ROGMEG. La cpu richiesta da Leo è il ryzen 5 3600x. Il 3600x è una versione un po' pompata della cpu 3600 di cui abbiamo parlato spesso sul canale. Di fatto l'unica differenza tra le due sono i 200 megahertz in più per quanto riguarda la frequenza di clock che passa rispettivamente da 3,6 a 3,8 ed in modalità boost da 4,2 a 4,4 gigahertz. Al pari del 3600 abbiamo 6 core fisici e 12 thread e ben 32 megabyte di cache l3 ed abbiamo anche il supporto alla tecnologia pca express 4.0. Le prestazioni in game sono influenzate dal valore di clock della cpu. Quindi il 3600x sicuramente si comporta un pelino meglio rispetto al 3600 in tutti i giochi. Assicura buone performance in game soprattutto con i titoli che sfruttano tanti core come quelli del genere open world. Con i programmi di produttività e con l'editing le performance sono elevate così come lo sono anche con lo streaming. Per tenere a base le temperature del 3600x ho deciso di inserire l'Arctic Freezer 34 eSports Duo. Si tratta di un dissipatore ad aria munito di doppia ventola, silenzioso ed in grado di mantenere temperature buone. Considerate che rispetto al dissipatore incluso con la cpu le temperature in full load si abbasseranno di circa 15 gradi, quindi non male se considerate il suo costo basso. In descrizione inserisco anche il link di un dissipatore al liquido nel caso non amiate quelli ad aria. Passiamo ora alla motherboard. Per stare dentro al budget complessivo dei 1200 euro avrei potuto inserire una scheda madre B450 spendendo intorno ai 100 euro. Ma secondo me quando si allestisce un pc AMD dal costo superiore ai 1000 euro vale la pena puntare su una motherboard x570, più prestazionale ed in grado di assicurare una migliore compatibilità futura con le cpu AMD. Ho inserito la gigabyte x570 gaming x. Abbiamo 6 porte SATA da 6 gigabyte secondo e ben due slot m.2 che potremo utilizzare per installare ssd di tipo pca express 4.0. La memoria RAM massima installabile è di 128 gigabyte mentre la frequenza massima supportata in oc è di 4000 megahertz. Possiamo utilizzare configurazione a doppia scheda video ma tanto l'ho detto spesso sul canale le configurazioni SLI o crossfire a doppia gpu sono ormai inutili perché non sono supportate dai giochi. Abbiamo diverse porte usb 3.2 gen 1 e naturalmente al pari della maggior parte delle schede madri x570 abbiamo un'alimentazione a 12 fasi e generosi heat sync per la dissipazione del calore. Attraverso il software smartphone 5 riusciremo a regolare la velocità di tutte le ventole del nostro pc. Abbiamo inoltre compatibilità con il software rgb fusion 2 per la gestione della colorazione rgb. Ultimo aspetto che mi piace sono i connettori per l'alimentazione delle ventole di tipo hybrid fan in grado di riconoscere cosa viene alimentato. Questo risulta molto comodo soprattutto quando attacchiamo le pompe per il raffreddamento al liquido custom. Detto questo passiamo alle ram. Leo ha richiesto delle ram da 3600 megahertz. Inserisco un kit DDR4 crucial ballistic da 16 gigabyte quindi due banchi da 8 gigabyte in configurazione dual channel. Vi ho parlato spesso di queste memorie sul canale costano poco più di 100 euro ed hanno un ottimo rapporto prezzo prestazioni. 3600 megahertz secondo me è la frequenza giusta per le cpu ryzen della serie 3000. A livello prestazionale avremo un incremento di circa il 3% rispetto ad utilizzare delle ram da 3000. Mentre la differenza rispetto ad utilizzare delle ram più veloci magari da 3800 o 4000 è quasi impercettibile a fronte di un costo decisamente più alto. Siamo arrivati alla scheda video. Leo ha richiesto che fosse una scheda asus rockstrix a scelta tra una 2070 super ed una 5700 xt. Considerato il budget complessivo ho deciso di inserire la 5700 xt la versione rockstrix OC edition. La 5700 xt è una delle schede video dal miglior rapporto prezzo prestazioni. Vi permetterà di giocare con impostazioni grafiche massime alla risoluzione di 1080p e 1440p. Riuscirete anche a giocare bene in 4k con setting grafico impostato sul medio. Se confrontiamo le prestazioni della 5700 xt con la controparte nvidia ci rendiamo conto che in generale le prestazioni sono leggermente migliori di quelle di una 2070 normale e leggermente inferiori a quelle di una 2070 super. Naturalmente questi valori cambiano a seconda del gioco che si utilizza come bench. Quelli ottimizzati per nvidia daranno vantaggio al 2070 e viceversa. Considerate anche che se si prende una 5700 xt di fascia media come per esempio il modello xfx alla fine la si compra con un prezzo simile a quello di una 2060 super ma si avranno prestazioni migliori. In questa build inserisco la versione rockstrix richiesta da leo quindi una versione top di gamma che ha un costo intorno ai 500 euro. Comunque circa 80 euro in meno rispetto alla 2070 super founders. La rockstrix 5700 xt o c edition è a mio avviso la migliore 5700 xt attualmente sul mercato. Dispone di un dissipatore a tripla ventola in grado non solo di mantenere temperature basse ma anche di farvi fare un po' di uc sulla gpu. Per quello che ho potuto vedere si riescono a mantenere 2,05 ed in alcuni casi 2,1 gigahertz di clock sulla gpu con temperature accettabili. In più trovo molto bella l'illuminazione rgb che riusciremo a gestire tramite il software aura sync. Tramite asus gpu tweak riusciremo a modificare tutti i parametri della scheda video dalla frequenza di clock della gpu e delle memorie, la curva di funzionamento delle ventole, l'alimentazione della scheda eccetera. In sintesi è un ottimo tool per fare uc in sicurezza. La scheda è munita di un bel backplate e di due connettori a 4 pin per le ventole a controllo ibrido a cui possiamo collegare per esempio due ventole del sistema la cui velocità si regolerà in funzione del workload del processore e della scheda video. Insomma stiamo parlando di una bella scheda video dedicata a chi adora l'overclock e le temperature basse. Per quanto riguarda l'archiviazione ho inserito il Kingdian S280 la versione da 480 gigabyte. Ha una velocità lettura e scrittura rispettivamente di 559 e 381 megabyte secondo. Al momento costa meno di 55 euro e garantisce prestazioni migliori rispetto a qualsiasi hard disk di tipo tradizionale. Se li trovate disponibili su Amazon vi consiglio tuttavia di prendere o il Crucial BX500 o il Kingston A400 di cui abbiamo già parlato sul canale. L'inserisco in descrizione a voi la scelta. Siamo arrivati all'alimentatore. Ormai conosciamo tutti le problematiche relative agli alimentatori delle ultime settimane che posso riassumere dicendo poca disponibilità e prezzi alti. Per questa configurazione inserisco il Siasonic S123 da 650 watt. È certificato 80 plus bronze ed è davvero silenzioso ed affidabile. 650 watt sono più che sufficienti per questa build che ha un consumo in full load di poco inferiore ai 450 watt. Ragazzi quando la situazione degli alimentatori inizierà a migliorare in termini di prezzi inizierò ad inserire anche altri modelli. Siasonic è un brand super affidabile e non vi darà alcun problema. Siamo arrivati al case. Per questo pc abbiamo inserito un processore ed una scheda video AMD e quindi ho deciso di scegliere un case davvero particolare in grado di mettere in risalto queste scelte. Sto parlando dell'MSI MAG Vampiric 011C AMD Edition. Si tratta di un case mid tower spazioso ed esteticamente davvero bello. Abbiamo una grande finestra laterale in vetro temperato spessa 4 mm, una striscia led inclusa ed un ottimo airflow interno. Possiamo installare un radiatore da 240 mm nella parte superiore del case ed uno da 360 mm nella parte frontale oltre a quello da 120 mm nella parte posteriore. Lo spazio per il cable management è ottimo così come è molto comoda la paratia che copre l'alimentatore che oltre ad aiutarci con la cablatura rende la build più pulita e bella esteticamente. Il grande filtro antipolvere magnetico superiore è davvero comodo ed eviterà l'accumularsi di polvere all'interno del case, pur mantenendo un ottimo airflow. Ragazzi mi piace l'estetica di questo case soprattutto la parte frontale con l'inserto di colore arancione che ricorda i colori delle cpu amd e la scritta ryzen. Se invece preferite un case meno vistoso e senza scritte vi consiglio di guardare il video sui migliori 5 case mid tower sotto gli 80 euro che ho pubblicato sul canale e che trovate ora in alto a destra. Ok la configurazione è conclusa e come potete vedere sul carrello di amazon siamo arrivati ad un costo complessivo di 1247 euro quindi di poco al di sotto del budget di 1250. Come vi avevo promesso ad inizio video vi dico quali modifiche potete fare alla build per scendere sotto la soglia dei 1200 euro. Il miglior modo secondo me è quello di scegliere una 5700 XT meno costosa della ROG Strix. Come ad esempio questo modello XFX che costa circa 90 euro in meno. Abbiamo anche qui un dissipatore a tre ventole ma un clock un po' più basso rispetto alla ROG. Se scegliete questa scheda video arrivate ad un costo complessivo di circa 1160. A questo punto potreste usare i 40 euro rimanenti o per prendere un ssd migliore e più capiente oppure per sostituire il dissipatore ad aria con un alliquido a doppia ventola. In descrizione al video trovate i link anche per queste modifiche. Inserisco anche una scheda di rete per la connessione wifi nel caso non usiate il pc tramite LAN. Fatemi sapere che ne pensate di questa build. Se questo video vi è piaciuto spolliciate e non vi scordate di attivare le notifiche per non perdervi i prossimi video. Ultima cosa se come me amate l'hardware e non vi sto troppo antipatico iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video.